Croste di Jessica Lafauci. Un testo spiazzante, una trama destrutturata costruita con notevole abilità di frammenti, se non di frantumi, in una lingua essenziale e tagliente. Non c'è una classica storia, c'è Nina, bambina, adolescente, giovane e poi adulta. Le case, il suo rapporto complesso con le cose, un minimo di contesto familiare, gli amici, i lui. L'autrice, attraverso questi frammenti, conferisce una vivida concretezza alla solitudine di Nina, una coerenza straziante alla sua incapacità strutturale di stare al mondo. Ma il senso di estraneazione di Nina nei confronti dell'esistenza è sintomo di incapacità o è a suo modo una scelta, quella di volersi liberare dagli atti imposti? Tutti i gesti si imparano da qualcun altro, come rifarsi il letto, come lavarsi i denti, come chiudere la porta di casa, come reggersi sull'autobus, come stare in fila, come pagare al supermercato, come lavarsi, come tenersi per mano, a mettersi il mascara e la matita per gli occhi. Lo stesso vale per le esperienze sessuali dell'adolescenza, socialmente ammesse ma in certo modo anche subite in macchina. Sono tutte scorie, croste, di cui liberarsi. Ma non sempre la cosa si rivela semplice. E così c'è una cantina, insieme fisica e psichica, dove mettere quello che non si può buttare ma nemmeno tenere. Che le cose debbano avere un'utilità, una praticità, è per Nina incomprensibile. E tutto il complesso processo anamnestico, in cui consiste sostanzialmente il testo del romanzo, sembra prendere avvio con il vaglio, insieme all'amica, degli oggetti ammassati nella cantina. Magari lì, o chissà dove, c'è il maiale di plastica dei bisnonni giostrai, una gemma del passato, un possibile ancoraggio. Il mondo esterno entra in tale processo con accenni suggestivi al paesaggio urbano e marino di una Genova mai nominata ma suggerita, oppure attraverso allusioni, come quella all'11 settembre, e insieme all'edificio dove si sono svolti i riti scolastici dall'asilo alla fine delle medie, simbolo della prevaricazione indebita e violenta. E Nina, proprio questo, la prevaricazione, sembra voler radicalmente rifiutare.